Let's go baby e benvenuti a questo video sono in live streaming su twitch.tv power tv e siete qui state vedendo le clip di quando gioco in streaming i pezzacci che faccio quindi venite tutti in streaming sarò con sicuramente personaggi famosi dell'ambiente di Overwatch che siete qui a supportarci nelle ranked nei game faremo non solo ranked quindi gameplay di eccellenza ma cercherò anche di spiegarvi le meccaniche di gioco alcuni trucchetti dei giocatori professionisti e così via Let's go baby e venite su twitch.tv power tv